La direzione distrittuale antimafia ha chiesto il sequestro del crotone calcio per i presunti rapporti del presidente Vrenna e del fratello con la malavita organizzata. Il procuratore di Catanzaro ha chiesto per loro la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 5 anni. La società rientrerebbe nel lungo elenco di beni per un valore totale di circa 800 milioni di euro su cui l'antimafia calabrese che indaga sui fratelli da tempo vorrebbe apporre i sigilli. Secondo i magistrati i fratelli Vrenna avrebbero avuto l'appoggio delle coaxche per sbaragliare gli avversari nel campionato di Serie B di quest'anno dove è seconda in classifica.